Bene, benvenute a tutti e a tutti, praticamente ormai alla fine di questo ciclo di seminari intersezione 2021, che ricordo è ormai alla non edizione, e sono veramente molto contenta di avere come ospite Mauro Bonazzi, perché è da tempo che volevamo averlo qui a Lecce, sarebbe stato bello averlo qui in presenza, ma ci accontentiamo per il momento di questo format. Abbiamo conosciuto, lo dico soprattutto per gli studenti e anche ex studenti che stanno seguendo la lezione di oggi, abbiamo avuto il piacere di studiare sui libri di Mauro Bonazzi, in particolare, lo ricordo, l'Atene inquieta in un corso dedicato al rapporto verità-apparente-verità in Platone. Mauro Bonazzi adesso insegna storia della filosofia antica e medievale presso l'Università di Utrecht, ma aveva già insegnato, scusate, presso l'Università Statale di Milano, ma ha anche una grande esperienza internazionale di ricerca e di insegnamento presso alcune delle più prestigiosi università europee, come l'Università di Lovagno e l'Ecole Pratique d'Ottitude a Parigi. Come sapete, è uno specialista di Platone e del platonismo antico, nonché del pensiero politico greco, e una delle particolarità che francamente apprezzo di più dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni di Mauro Bonazzi è la sua capacità di dividersi equamente, se così mi può consentire, tra la sua attività accademica, con numerose pubblicazioni in riviste di fascia o di alta qualità nel mondo della filosofia antica, tra questi ho anche pubblicazioni che sono apparse per la casa editrice Evren, come Platonismo e Filosofia e Lennistique, Processo a Socrate per l'Alla Terza, Creature di un solo giorno per Enaudi, uscito nel 2020, The Sophist, uscito per la Cambridge University Press, sempre nel 2020, ma a fianco a questa importantissima attività accademica di ricerca, Mauro Bonazzi coniuga un'attività che forse sarebbe riduttivo a dire di semplice divulgazione, perché il professore collabora da tempo ormai con il Corriere della Sera e la lettura, che è l'inserto culturale del Corriere della Sera e tiene una rubrica settimanale di lezione di filosofia per sette e questo è un aspetto che mi ha sempre particolarmente colpito perché in questo riesce a coniugare dal mio punto di vista una grande chiarezza, un'encomiabile chiarezza anche con un rigore metodologico assolutamente incomiabile e tra l'altro ha la capacità di rileggere dei temi propri della filosofia antica come chiavi di lettura per comprendere anche il tempo presente. E approfitto quindi per ricordare a chi sta seguendo il seminario di oggi che domani il professor Mauro Bonazzi terrà una lezione proprio sulla sua esperienza di filosofo prestato alla carta stampata nell'ambito del laboratorio Scienza e Divulgazione. Quindi invito tutti poi a seguire il seminario di domani alle 16 sempre sulla piattaforma Teams. Quindi ringrazio ancora il professore per essere ospite di questi doppi appuntamenti, uno oggi e un altro domani pomeriggio per il laboratorio Scienza e Divulgazione. Ringrazio le colleghe che ho avuto modo di salutare prima per essere presenti qui oggi. Do la parola subito al nostro ospite e come sempre alla fine avremo modo di approfondire alcuni aspetti, porre delle domande e dialogare con il professor Bonazzi. Prego. Allora, grazie Alessandra, grazie mille per l'invito. Effettivamente è stato un po' macchinoso riuscire a trovare una data che andasse bene a tutti. Sono molto contento che finalmente si sia riusciti e spero anch'io che sia l'inizio di una collaborazione che potrà continuare anche fuori dal web a cui ci stiamo drammaticamente abituando. Ringrazio anche per la presentazione, è molto gentile, molto generosa e introduco subito il tema di cui vorrei parlare, che effettivamente esula solo in parte dagli interessi che erano stati ricordati. Nel senso che ho approfittato dell'invito di Alessandra per provare a presentare alcune ricerche che sto iniziando a sviluppare in questi ultimi periodi non tanto dedicate al pensiero antico in quanto tale, quanto diciamo alla relazione tra moderno e antico, quindi a come certe idee, certi momenti del pensiero antico sono stati usati o abusati in epoca moderna, soprattutto nel mondo della filosofia tedesca che, come sapete benissimo, ha sempre coltivato l'idea di una relazione speciale col mondo greco per una serie di ragioni culturali, intellettuali, religiose e all'inizio del Novecento in particolare l'idea di questa relazione ha prodotto veramente una riflessione di altissimo livello sul significato della vita del mondo antico per l'epoca moderna, con una risposta alla crisi della modernità, potremmo dire, semplificando. In questo contesto una figura particolarmente importante è sicuramente la figura di Hannah Arendt, di cui vorrei parlare oggi presentando alcune mie riflessioni. è una ricerca in corso, per cui vedrete la conclusione aporetica, ma spero che poi mi aiuterete a chiarire tutti i problemi che vanno ancora affrontati, perché è una ricerca abbastanza articolata, nel senso che il pensiero di Hannah Arendt, al di là di alcune interpretazioni standard che sempre si ripetono, in realtà è un pensiero più complicato, più complesso e più ricco di quanto non si ripeta. Il punto di partenza della mia conversazione oggi con voi è esattamente uno di quei testi importanti, cardinali, di Hannah Arendt, che però non hanno ancora goduto di grandissima attenzione. Hannah Arendt è la pensatrice del politico, per così dire, l'autrice di vita attiva, cioè della human condition, questo tentativo di rivalutare la dimensione pratico-politica dell'esistenza umana, per fare il punto, perché questo nasce direttamente dal suo confronto col mondo antico attraverso Heidegger, nel mondo antico si sviluppa questa riflessione fondamentale tra teorie e prassi, tra l'idea di una vita contemplativa o di una vita attiva, cioè c'è l'idea che per realizzare veramente le proprie potenzialità di esseri umani, cioè qual è la vita più importante, come bisogna vivere per poter realizzare in qualche modo la nostra natura di esseri umani. Nel mondo antico si sviluppa un dibattito fondamentale interessantissimo in cui ci sono due modelli, c'è la vita contemplativa, la vita dedicata alla conoscenza, che è quella in qualche modo teorizzata dai filosofi, e di contro c'è la vita attiva, la vita politica, quella appunto della democrazia tenese, di Perigle, quella che vediamo rappresentata di fatto sostenuta a difesa in tantissime opere letterarie del mondo antico. Allora, tutta una tradizione filosofica che prende le mosse da Platone sostanzialmente si ritrova nell'idea che la vita perfetta, la vita migliore, una vita in cui uno veramente realizza la sua natura di essere umano, è una vita dedicata alla conoscenza, quella che poi appunto in Medioevo diventerà la vita contemplativa. Uno pensa a Platone, Aristotele, Tommaso, Spinosa, l'idea è sempre quella, la conoscenza è il culmine dove noi veramente realizziamo le nostre potenzialità. Anna Arendt si distingue, per ragioni che poi potremo anche discutere, perché appunto lei è uno di questi pensatori che cerca di rompere con questa tradizione, perché secondo lei invece è l'altra vita quella che va rivalutata, è quella che è sempre stata in qualche modo svalutata dai filosofi, cioè la vita attiva, la vita pratica, la vita politica. Quello che fa in quest'opera fondamentale del 58, cioè di Human Condition, è quella di dire attenzione, perché tutta questa dimensione pratica dell'esistenza umana è sempre stata tenuta in secondo piano, perché sostanzialmente si riteneva che non fosse importante e quindi tutta la tradizione filosofica, tutto il pensiero filosofico si è sempre concentrato sulla dimensione della vita contemplativa, del biosteoretico in greco, cioè sulla teoria, sulla conoscenza, sulla comprensione, sul pensiero e non è stato capace di pensare alla dimensione pratica. Quello che fa Anna Arendt è quello appunto di cercare di comprendere meglio cosa significa la vita attiva, cosa significa la vita pratica ed è questo che le dà una grandissima celebrità insieme all'opera appunto sul totalitarismo, The Origins of Totalitarianism. Ma questa è Anna Arendt, la pensatrice del politico, quella che rivaluta la dimensione pratica, eccetera, eccetera. In realtà se uno poi guarda il suo pensiero si rende conto che il suo pensiero è più articolato, perché Anna Arendt è perfettamente consapevole del fatto che entrambe le dimensioni, entrambi i modelli vanno presi in considerazione, cioè non si tratta semplicemente di difendere la vita attiva contro i filosofi, si tratta di capire meglio, di comprendere meglio questa riflessione, il senso di questa opposizione. Ed effettivamente nell'ultima opera a cui lei lavora si dedica esattamente al problema della vita contemplativa, quindi in qualche modo sente l'esigenza di tornare su quell'opposizione perché si rende conto che, come dire, se non è capace di affrontare anche questo secondo modello, questa seconda opzione, in qualche modo la sua riflessione rimarrà incompleta, perché non si tratta di difendere una contro l'altra, si tratta di comprendere cosa c'è in gioco. Quindi l'ultima opera a cui lei lavora, l'ultima opera di sostanza è La vita della mente, The Life of the Mind, che purtroppo non verrà completato, perché lei morirà di infarto nel mentre, morirà di infarto tragicamente perché nella macchina da scrivere troveranno, come dire, che lei aveva appena finito di battere l'esergo per la terza parte di questa opera che sarebbe stata molto importante ed è un peccato che si sia perso. Comunque, in quest'opera, alla fine degli ultimi anni della sua attività, della sua esistenza, Anne Arendt affronta finalmente in modo diretto anche la parte, diciamo, quella che in una dimensione, scusate, in una dimensione, appunto nell'ambito di questo dibattito sarebbe stata la vita contemplativa. Cosa significa appunto questo? Cosa c'è in balla in tutto ciò? Ci sono due ragioni, dice Anne Arendt nella prefazione, che l'hanno spinta a confrontarsi con questo problema. Uno è quello di cui stavo parlando adesso, c'è la consapevolezza che in qualche modo bisogna affrontare, perché se noi vogliamo offrire un'immagine completa dell'esperienza umana, non possiamo alimentarci soltanto a discutere, a pensare, a teorizzare, ad analizzare la dimensione pratica, che pure è fondamentale e che gli errori e che i filosofi hanno colpevolmente trascurato, considerandola sempre un'attività minore, che è quello che ha fatto nell'opera del 58, se non ricordo male. Si tratta anche di considerare l'altra parte, perché comunque noi siamo animali razionali, comunque la dimensione intellettuale, il pensiero, la conoscenza, pure giocano un ruolo fondamentale nel nostro essere uomini, esseri umani. E quindi si tratta di capire anche questo, questa è quindi un'esigenza fondamentale di completezza del suo percorso, della sua ricerca. C'è poi una seconda ragione molto più concreta che la spinge a tornare su questi temi e affrontarli in un modo esaustivo, l'opera è molto lunga ed è pure incompleta, nel senso che la terza parte è completamente assente, sono tre parti, pensare, volere e giudicare. A giudicare non sappiamo niente, o pochissimo, pensare e volere invece sono state conservate anche se probabilmente non era la versione finale. Cos'è che c'è? Perché andare in senza intelligenza di tornare? Per un'esperienza che lei ha avuto, forse quella che poi l'ha resa più celebre al di fuori degli ambienti accademici, cioè l'esperienza del processo di Eichmann a Gerusalemme. Voi sapete tutti gli scandali, tutte le polemiche, lei va a Gerusalemme, assiste come inviata a New York, credo, non ricordo, il processo, scrive dei reportage che poi vengono raccorti in un volume che scatenano una miriade di polemiche infinite. Ora, noi non abbiamo tempo di approfittare in quell'opera che scatena delle polemiche, in questi anni si stanno celebraendo i 40 anni di quel processo, per cui sui giornali si continua a parlare della posizione di Anna Arendt, che ormai è diventata quasi più famosa del processo stesso. Lei solleva una serie di problemi concreti che riguardano la storia dell'olocausto, che in questo momento non ci interessano, però solleva anche una questione filosofica più interessante riflettendo su Eichmann, cioè l'idea della banalità del male, che nel libro, nel reportage da Gerusalemme e poi nel libro di Eichmann a Gerusalemme, è toccato solo marginalmente e che però Anna Arendt sente l'esigenza di dover sviluppare, lo fa in questo contesto, cioè qual è il problema? Il problema è che noi siamo abituati a pensare al male come qualcosa di demonico, diabolico, terribile, invece quello che lei osserva, sia giusto o sbagliato poi l'impressione che lei riceve di Eichmann, che potrebbe anche essere completamente forviante, come alcuni studiosi hanno cercato di mostrare, comunque filosoficamente l'idea è interessante, cioè Eichmann ha fatto quello che ha fatto, non tanto perché fosse una persona diabolico, cattiva o malvagia, ma semplicemente perché agiva senza pensare. La banalità del male è questo, il male è veramente, il male può avvenire anche perché la gente agisce senza pensare, è la totale assenza di pensiero, quello che Eichmann faceva, il fatto che lui agiva seguendo loghi comuni, cliché, frasi fatte, cioè che la sua attività era tutta dominata da un conformismo totale, per cui lui doveva fare semplicemente quello che gli veniva detto di fare senza riflettere su quello che stava facendo, questa è la banalità del male, e Ann Arendt dice questo è un problema interessante, questo è un problema fondamentale, perché molto spesso il male appunto non deriva da questa tradizione diciamo, l'idea religiosa del male diabolica o demonica, satanica, c'è anche quello naturalmente, ma c'è anche questo che molto spesso poi crea dei danni molto più ingenti nella vita associata agli esseri umani. Quindi per provare a capire di nuovo se possiamo trovare una soluzione al problema di Eichmann, di nuovo si tratta di pensare, tornare a riflettere sul significato del pensare, dell'attività intellettuale, della vita della mente, possiamo trovare lì una soluzione al problema del male, quindi c'è una riflessione, vedete che ci sono due, si intersegono due problemi fondamentali nella riflessione di Ann Arendt, da un lato appunto la compreservevolezza dell'importanza di questo problema filosofico che per me è il problema filosofico, la posizione tra conoscenza e azione, vita attiva e vita contemplativa, quindi l'esigenza di affrontare anche il secondo aspetto, la seconda parte, cosa che lei non ha mai fatto direttamente nel corso della sua attività. E d'altro canto un problema molto concreto, ma in realtà che non si limita, non è un problema di stringente attualità, il problema non è Eichmann, il problema è appunto questa idea della banalità del male, che di nuovo ci ricorda, ci fa comprendere ancora meglio l'importanza del problema della dimensione conoscitiva intellettuale. E quindi ecco l'idea di ripensare il tema della vita contemplativa, il tema del biosteoreticos, il tema del pensiero e della conoscenza nella nostra epoca, perché è successo qualcosa, le cose sono cambiate, sono cambiate rispetto al modello tradizionale di vita contemplativa che ha dominato per secoli, ha dominato da Platone fino a Spinoza o Hegel, dopo potremo anche discutere di tutto questo. Perché? Cos'è successo? È successo che il paradigma è completamente cambiato per una serie di ragioni, la principale delle quali, osserva Anna Arendt e penso che abbia perfettamente ragione, è che sostanzialmente è venuta meno quell'unità del mondo, potrei esprimermi con questi paroloni, che in qualche modo ha tenuto insieme la filosofia per secoli. Cioè qual'era l'idea? L'idea della vita, diciamo il problema è quello che, come riferisce Anna Arendt sempre nella prefazione, è l'idea della morte di Dio, cioè la modernità nasce con la morte di Dio, no? Il riferimento chiaramente sarebbe a Hegel e ancora di più a Nietzsche. Cosa significa? Significa che è venuto meno l'idea di un impianto unitario, di una struttura ordinata che tenesse tutti insieme, noi e il mondo che ci circonda, la realtà che ci circonda. Cosa vuol dire? Per semplificare, il modello della vita contemplativa in qualche modo presupponeva l'esistenza di un ordine, quindi teologicamente l'esistenza di Dio. Questo si vede bene tanto in Platone quanto in Aristotele, ancora di più nella filosofia medievale, dove appunto il problema di Dio diventa un problema filosofico fondamentale. Cioè l'idea è quella che in qualche modo, come dire, l'obiettivo della conoscenza, perché conoscere è così importante? Perché la vita contemplativa è la vita in cui tu veramente realizzi tutte le potenzialità dell'essere umano? Perché è in questa vita, in una vita dedicata alla conoscenza, che in qualche modo tu arriverai a rendere conto del senso della tua esistenza, e del senso della tua esistenza all'interno di un universo dotato di senso e valore e bellezza, nel senso che la conoscenza, perché è così importante? Perché ti porta al di là del disordine, della molteplicità che caratterizza la tua dimensione empirica, la tua esperienza personale, facendoti vedere in qualche modo che tu fai parte di un disegno più grande e meraviglioso. Basta che pensiamo, visto che celebriamo anche in questo caso un anniversario alla conclusione del viaggio di Dante, nel paradiso. Perché è così importante? Uno si è sempre chiesto, finché non capisce l'importanza di questo tema, ma questo è che ha fatto un viaggio che è durato, per cento canti, quando arriva lì finalmente vedi questi qua che cantano. Come dire, mi immaginavo che è quasi più citante, invece no, perché il paradiso sostanzialmente è quel momento in cui finalmente tu vedi Dio e vedendo Dio vedi il mondo con gli occhi di Dio, come dirà Spinoza poi nell'etica, in cui quello che sembrava disordine diventa ordine, quello che sembrava bruttezza diventa bellezza, quello che sembrava caso diventa necessità, in cui tutto finalmente acquista senso e valore. E anche la tua esistenza, in questo modo finalmente possiamo rispondere a quella domanda, ma che ci faccio qua io, qual è il senso della mia esistenza, che sostanzialmente è la domanda fondamentale. Questo poi è un correllare ulteriore, che è ben chiaro fin dai tempi di Platone, in qualche modo, più o meno implicitamente e ancora di più in epoca di Valle Moderne, cioè nel momento in cui io arrivo a cogliere il senso ultimo delle cose, che sia l'idea del bene piuttosto che Dio. Non solo capisco il senso che tiene tutto insieme, ma anche in qualche modo trovo dei fondamenti per il mio agire, quindi in qualche modo l'azione, la praxis, la vita pratica, in qualche modo dipende dalla vita contemplativa, perché quando io conosco Dio o in qualche modo arrivo a cogliere il senso delle cose, saprò anche che cosa è bene e che cosa è male. Dio è il creatore del cielo e della terra, l'arbitro del bene e del male. Quindi la conoscenza è fondamentale anche per la vita pratica. Tutto questo sistema, tutto questo impianto, viene meno in età moderna, appunto, si capisce l'idea della morte di Dio, nel senso che viene meno con la rivoluzione scientifica, perché penso che è quello, Nietzsche alludesse quando parlava della morte di Dio, viene meno l'idea, diciamo l'ipotesi, la necessità di postulare l'esistenza di un Dio creatore per rendere conto dell'ordine delle cose, nel senso che la scienza moderna è ormai perfettamente in grado di offrire una spiegazione più economica di come l'universo sia creato e di come l'universo funzioni, che non ha bisogno di nessuna ipotesi, diciamo, trascendente o divina, che invece è un'idea che in qualche modo sta alla base di tutta la filosofia dei secoli precedenti e questo va bene, non è un problema, nel senso che se oggi, come dire, quando si fa l'ora di scienza non è che leggiamo la Bibbia, a parte qualche posto in America, ma appunto si studiano le leggi della fisica. Questo non è un problema in sé, il problema è appunto che, come Nietzsche osserva benissimo in quel famoso apologo della morte dell'uomo folle, è che quello che la gente non ha capito e che sta iniziando a capire, e adesso noi purtroppo l'abbiamo capito appieno, è che venendo meno l'idea di un Dio creatore, è venuta in Dio anche l'idea di un bene e di un male assoluti, oggettivi, divinamente fondati, no? Dio, il creatore del cielo e della terra, l'arbitro del bene e del male, ma se non c'è più Dio, dov'è il bene e il male? E allora vedete che i due problemi si risaldano di nuovo, e quindi cosa diciamo a Eichmann? Come risolviamo il problema? Perché l'idea di un tempo poteva essere, no, se io conosco Dio posso spiegarti, cioè semplificando, spero che non si capisca la semplificazione, ma nel momento in cui riesco a cogliere il principio del bene, il fondamento del bene, ho anche una risposta per dire questo non va bene, questo è sbagliato, questo non è giusto per oppormi, ma in un mondo in cui si è perso il fondamento, cosa posso fare? Ed ecco l'idea, appunto il problema del nichilismo, il problema di Eichmann, quindi vedete che Hannah Arendt coglie perfettamente una serie di stimoli e li unisce in una riflessione molto interessante, questo penso che veramente sia, come dire, faccio vedere che questa parte del pensiero di Hannah Arendt è veramente, secondo me, interessante. Il problema è, appunto, e allora a questo punto ecco come affrontarlo, perché per motivi che in parte spiegavo, che poi possiamo spiegare meglio dopo, la filosofia è clamorosamente fallita, nel senso che nel momento in cui la filosofia si è dedicata a quest'idea della vita contemplativa, questo modello forte di vita contemplativa che ha completamente svalutato la dimensione pratica dell'esistenza umana, sostanzialmente la filosofia non è più stata capace di dire niente, quindi i filosofi hanno fallito. Hannah Arendt è sempre stata attenta a dire che lei non era una filosofa e non era un vezzo, era appunto perché secondo lei i filosofi non sono stati capaci di risolvere i problemi in cui noi ci stiamo tragicamente avvolgendo e quindi si tratta di cercare da un'altra parte, di cercare di trovare un altro punto di riferimento per provare a pensare all'esigenza, di cosa significa pensare, cosa significa pensare in un mondo appunto nella modernità, in un mondo dominato dalla morte di Dio e dal nichilismo, se posso esprimermi appunto con questi temi. Hannah Arendt trova un punto di riferimento e lo trova appunto in Socrate, perché Socrate non è un foliosofo professionista, Socrate è un pensatore che va nelle piazze, è un pensatore che gira per la città, quindi effettivamente è un pensatore, adesso capite il punto, è un pensatore e non è un filosofo di professione che si dedica alla vita contemplativa, come tutti da Platone in poi, ma è un pensatore, uno che ha pensato per tutta la vita e che in qualche modo ha pensato nel mondo degli uomini, non in un altro mondo, non è andato fuori dalla caverna, lui sempre lì è rimasto e quindi da questo punto di vista Socrate ci potrebbe aiutare a capire meglio il problema. E quindi ecco l'importanza di Socrate, l'importanza di Socrate è anche storicamente fondata da una serie di motivazioni, la prima delle quali è che Anne Arendt queste opere le scrive in America e non è che l'ha scritta in America perché le avevano offerto un posto in America, l'ha scritta in America perché l'ha dovuta scappare in America, nel senso che era ebrea, i nazisti se non l'avrebbero mandato in un campo di concentramento, quindi a un certo punto lei capisce che la situazione degenera, scappa, come dire, rocambolescamente dalla Germania finisce in America. Quindi la sua riflessione è anche segnata dal problema appunto del nazismo, Eichmann appunto, il totalitarismo eccetera. Il problema, perché l'interesse per Socrate? Perché tra parentesi, lo dico velocemente, ma è un punto su cui si può tornare dopo, tra parentesi, come dire, perché Socrate, se voi guardate la filosofia politica della seconda metà del Novecento, vedete che Socrate compare ovunque, è un punto di riferimento e tutti si rifanno a Socrate. Perché? Se guardate invece la letteratura del primo Novecento di Socrate non si interessa a nessuno. Perché? Eh certo, perché si interessavano tutti di Platone, soltanto che appunto avevano costruito tutti Platone come una specie di precursore del totalitarismo, pensate a Popper, ma non è che lo diceva Popper, lo dicevano i nazisti che Platone era, come dire, la guida che giustificava l'ideologia nazista, cioè la Repubblica era il testo che giustificava filosoficamente il nazismo, la butto lì così, ma è così, non è una battuta e quindi ecco che ci si interessa per chi vuole continuare a riflettere sul mondo antico e non buttarlo via tutti, tutto come ad esempio alcuni sostenevano, ecco che Socrate diventa una figura importante per tanti motivi, perché non è un filosofo, perché è un pensatore che è stato capace di pensare nel mondo degli uomini invece di scappare, perché è un filosofo che nessuno può accusare di essere qualcuno che prepara quel totalitarismo, quel modo di pensare che ha distrutto l'Europa nel primo dopoguerra, eccetera, eccetera. E quindi ecco che uno osserva nel pensiero, nella riflessione di Hannah Arendt una presenza costante di parte di Socrate. In particolare, diciamo, ci sono due opere che mette il conto di che è interessante considerare, perché Hannah Arendt negli anni 50, proprio mentre sta scrivendo la vita attiva, la condizione umana, tiene una serie di corsi in cui discute la figura di Socrate e lì effettivamente Socrate compare veramente come il pensatore di cui noi abbiamo bisogno per affrontare questi temi. Nel senso che Socrate figura come un pensatore che non ha delle verità trascendenti da imporre, il modello platonico, ho visto l'idea del bene o il modello teologico, ho visto l'idea del bene, ho visto Dio, ho per qualche motivo un contatto privilegiato con la realtà divina che mi autorizza, che mi conferisce quell'autorità per governare sulla città, perché comunque io so cose bene e cose male e quindi non ha nessun senso discutere. Socrate non sa, Socrate è ignorante, questo è il punto di partenza della riflessione socratica e quindi non può imporre, non ha niente da imporre. Quello che fa Socrate appunto è di esercitare il pensiero in un contesto democratico, quello che fa Socrate in questo piccolo saggio del 54, molto interessante, che è stato anche tradotto poco tempo fa da Cortina, non so se si vede perché vedo che sono un po' controluci, comunque Socrate è stato tradotto da Cortina con dei bellissimi saggi di accompagnamento da due specialisti, da tre specialisti come Olivia Guaraldo, Simona Forti e Adriana Cavarero, scusate Ilaria Possente, Adriana Cavarero e Simona Forti, lì effettivamente si vede cosa potrebbe essere la funzione del pensiero in un'epoca moderna, in un'epoca democratica, nel senso che Socrate non ha nessuna verità da imporre, quelle di Socrate sono opinioni, come tutte quelle dei partecipanti al dibattito pubblico e quello che bisogna fare, quindi l'opposizione con Platone, col modello platonico, col modello filosofico, teologico fortissima e quello che bisogna fare è in qualche modo favorire la discussione, favorire come dire la costruzione di una verità condivisa, quello che fa il filosofo, il pensatore, quello che fa Socrate, quello che rende il modello socratico così importante per noi oggi, dice Arendt, dice Arendt, è che appunto ci dà un'idea di quello che dovremmo fare, cercare di sviluppare, promuovere un dibattito, promuovere un confronto fra le diverse opinioni, cercando di far emergere una verità condivisa che in qualche modo poi fonderà la vita associata degli esseri umani. L'immagine che potremmo ricavare ad esempio, come dire, nelle tante metafore, nelle tante immagini che Platone usa nei suoi dialoghi per parlare quando descrive l'attività di Socrate è quella della levatrice, è un passo famosissimo di Platone, Socrate dice io sono sterile, sono come le levatrici, cioè io non ho idee mie, perché non so, qui non ho nessuna verità da darvi, però come le levatrici sono capaci di far partorire gli altri, le levatrici fanno partorire i figli e io faccio partorire le idee, quello che sono capace di fare io, dice Socrate, appunto con il mio metodo di ricerca, con le mie domande, la computazione, tutte queste cose, l'ironia, tutte cose che conoscete tutti benissimo, Socrate è capace di favorire il dibattito e di creare appunto una verità condivisa che permetterà di fondare il mondo della politica. Quindi vedete che effettivamente qui c'è un modello positivo che in qualche modo ci potrebbe dare degli spunti interessanti di riflessioni. Che questo abbia a che fare con il Socrate storico, mi permette un inciso, è una più illusione, nel senso che il saggio è bellissimo, ma se uno dei miei studenti si permettesse di scrivere le cose che dice l'Arendt, verrebbe bocciato un misuramento. Però appunto l'Arendt, l'Arendt può scrivere quello che vuole, quindi storicamente il metodo che lei adotta, anche influenzato da importanti studiosi socratici, di esempio Griglio Rivlastos, così opera tutta una serie di cesure, selezioni nei testi platonici che sono assolutamente folli, che però rispondono di quel dibattito, di quel contesto di cui vi parlavo, in cui si cerca di salvare il salvabile, per cui come dire si fa come si fa con Alitalia, tutto quello che va male lo si dà ad Alitalia, cioè a Platone, tutto quello che va bene lo si attribuisce a Socrate e si crea appunto questa idea di un Socrate democratico, intellettuale, in qualche modo organico alla città, che è molto interessante, che quindi è un modello molto interessante che tra l'altro era ripreso anche da altri pensatori, non soltanto da Anna Arendt. Il problema è, però, come dire, Anna Arendt medesima, si rende conto che questo modello, quest'idea, per quanto interessante in linea di principio, che poi in qualche modo è l'idea dei sofisti da un altro punto di vista, non è, non rende conto di tutti i problemi, non è adeguata, bisogna cercare, come dire, c'è qualche cosa, è un po' troppo, fa le rendere le cose un po' troppo semplici, perché la situazione è più complicata. E uno potrebbe osservare che, allora, è più complicato da un punto di vista storico, perché appunto adesso facevo la battuta su Anna Arendt, ma Anna Arendt, se voi guardate online, sono anche disponibili la sua libreria, lei il test li leggeva, se uno guarda i suoi volumi, è veramente interessante vedere quelle correzioni di segna margine, perché si vede che è una che leggeva veramente con grande attenzione e intelligenza i testi, non era una che, come spesso fanno i filosofi moderni, che si inventano le cose e le attribuiscono poi agli altri, tanto per darsi un po' di tono. Lei è una che legge con grandissima cura, attenzione, i testi, effettivamente li conosce molto bene e si rende conto che effettivamente quell'immagine di Socrate non è soddisfacente, né da un punto di vista storico, ma questo tutto sommato è un problema secondario in questo contesto, né soprattutto da un punto di vista diciamo più filosofico. In fondo l'obiezione potrebbe essere che non si capisce, soprattutto per uno che sta leggendo i testi di Platone, non si capisce come dire come tante opinioni possano creare una verità e quale sia lo statuto autoritativo di una verità che è stata raggiunta in questo modo, questa è la tesi un po' più problematica di quel saggio, cioè lei favorisce il confronto, cioè lei cerca in qualche modo di tenere sempre distinto Socrate dai sofisti, i sofisti sono relativisti e convenzionalisti, per cui promuovo il dibattito, si trova una verità, ma questa verità, non si trova una verità scusate, si trova un accordo e questo accordo vale fin tanto che noi vogliamo che valga, ma non ha nessun valore di verità e quindi nessuna autorevolezza al di là del nostro accordo, mentre lei sembra insistere sul fatto che si possa trovare una verità condivisa, ma come il pensiero possa farlo? Questo è un problema che in qualche modo rimane aperto. E infatti a questo punto, poi Socrate torna in tante altre opere, però Socrate gioca un ruolo fondamentale poi nella vita della mente, come dicevo prima, mi ricollevo, dove però emerge un'immagine molto diversa e molto più interessante, secondo me, di Socrate, molto più, come dire, problematica, perché lei si rende conto che se la funzione di Socrate è quella di pensare, perché non c'è più la conoscenza, perché appunto in morte di Dio tutto quello che vi dicevo prima, su questo lei è chiarissima, allora a questo punto la situazione è molto più problematica, perché Socrate, come dire, a questo punto, che è esattamente quello che si trova in Platone tra parentesi da un certo punto di vista, perché Socrate a questo punto non ha più niente da dire, il pensiero di Socrate, a Mare lo continua a ripetere nel capitolo che gli dedica, che è veramente un capitolo fondamentale, è un pensiero che continua a girare intorno a se stesso, perché è un pensiero distruttivo, il riferimento molto interessante è quello alla rete di Penelope, alla tela di Penelope, cioè il pensiero che cos'è? Il pensiero è un'attività continua, che però non ha più un obiettivo, non ha più un oggetto da pensare, perché appunto è venuto meno quel modello di cui parlavo prima, siamo nell'epoca dell'inchilismo, siamo nell'epoca della morte, della perdita dell'unità di senso, quindi il pensiero non è più un momento di conoscenza che culminerà nel raggiungimento di un obiettivo, Dante che finalmente vede Dio, Spinoza che finalmente intende l'universo come lo intende Dio, non c'è più quello, quello è finito, il pensiero è un'attività che gira intorno a se stessa, è un interrogarsi, è un riflettere su questioni che non hanno risposte, nel senso che la scienza si dedica alla conoscenza, ma la conoscenza della scienza è una conoscenza che dice come sono le cose, ma non perché sono così come sono, che è la domanda invece di senso di cui si occupa la filosofia, che però non ha risposte, quindi in qualche modo la scienza nei suoi progressi ci dirà sempre meglio come è formato l'universo, come funziona, quali sono le leggi che organizzano la realtà in cui viviamo, tutte cose che effettivamente noi condividiamo a pieno, ma non ci dirà mai cosa è bene e cosa è male, non ci dirà mai qual è il senso dell'esistenza, perché l'universo è stato creato, non nel senso causale, no, è stato creato perché è successo questo e quest'altro, ma perché? Questa domanda la scienza non è in grado di rispondere, neanche la filosofia, però la filosofia l'incarica almeno di porre la domanda e cercare di riflettere. Il pensiero di Socrate fa questo, riflette su questi problemi, ma appunto è un pensiero che in qualche modo procede circolarmente, aporeticamente come effettivamente succede in tutte le opere di Platone, no, non si arriva mai a conclusioni finali, è un pensiero che torna su se stesso come la rete di Penelope, come la tela di Penelope, scusate, che appunto, come dire, continua a distruggere quello che crea, perché questa è la funzione del pensiero. Il pensiero, dice in qualche modo a Narendt, è un pensiero, è distruttivo e per questo è pericoloso, no? Vi leggo ad esempio una frase che forse rende, allora, il pensiero non crea valori, non scopre una volta per tutte che cosa sia il bene, non avvalora ma semmai dissolve le regole accettate di condotta, cioè il pensiero esercita una funzione, la differenza rispetto a prima è che prima Socrate è un Socrate che cerca di costruire l'accordo, adesso Socrate un po' più filosoficamente è l'outsider che cerca di mettere in discussione gli accordi, cerca di mettere in discussione, come dire, le convinzioni della città, esercita una funzione critica, Socrate è il tafano, Socrate è la torpedine che ti fa apparire, come dire, problematico quello che a te sembrava scontato, quindi non avvalora ma semmai dissolve le regole accettate di condotta e non possiede quindi nessuna rilevanza politica, questa è la vera funzione del pensiero, no? Appunto cercare di, come dire, adesso qui capite il problema è vero, da un lato si capisce in che modo il pensiero ci può aiutare in una situazione come quella di Eichmann, perché cerca di rompere quel meccanismo perverso di un'azione senza pensiero, di un'azione che segue conformisticamente delle regole di condotta che non vengono mai messe in discussione, la funzione del pensiero è quella di rompere, di criticare, di mettere in discussione, di risvegliare dal torpore, giusto? Questa è l'immagine di Platone che si adatta perfettamente a un contesto come quello di Adolf Eichmann, perché appunto l'idea è quella che il pensiero ti ferma, non ti fa agire, ti ferma, ti impedisce, no? Ti ferma e pensa a quello che stai facendo, ti blocca, ti congela e ti impedisce quindi, ti costringe a ritornare a pensare su quello che tu stai facendo. Quindi da questo punto di vista si capisce, come dire, in che senso una figura come quella di Socrate e una riflessione sul pensiero che non è più vita contemplativa, possa comunque avere un ruolo da svolgere nella società. Ed è in questo senso che Anna Arendt sviluppa la sua riflessione e offre una risposta appunto al problema di Eichmann. ma se voi ci pensate bene, in realtà la risposta è tutt'altro che condivisibile o comunque tutt'altro, come dire, la soluzione è tutt'altro che trovata, perché poi in realtà questo pensiero l'unica cosa che può fare è veramente di bloccarti, ma non ha niente da darti un positivo, il problema appunto di Socrate e Platonico, perché in qualche modo è un pensiero che gira su se stesso, è un pensiero che diventa pericoloso proprio perché non ha niente da dire la politica in termini costruttivi, come diceva, e non possiede nessuna rilevanza politica. E infatti poi, come dire, Anna Arendt subito dopo dirà che effettivamente poi Socrate, come dire, tra i risultati di Socrate ci sono anche Crizia Alcibiade, cioè quei cattivi allievi che hanno distrutto la città. Quelli che invece, come dire, dal fatto che hanno fatto l'inferenza socraticamente sbagliata, ma in qualche modo possibile in questa riflessione, è che se non ci sono valori io faccio quello che voglio e quindi affermo il mio interesse, che è esattamente quello che appunto hanno fatto Crizia Alcibiade distruggendo la città di Atene. Quindi vedete che in ultima istanza ci si potrebbe chiedere se veramente ha il pensiero, come dire, il problema non è dell'Arendt, penso che l'Arendt abbia il grandissimo merito di mettere in evidenza questa tensione. Il problema è se veramente il pensiero ci possa aiutare a risolvere i problemi della politica, se veramente il pensiero ci dia una risposta al problema del male e quale possa essere questa risposta. O solo invece, oppure cosa sta succedendo, cioè questo è il problema, diciamo che in fondo qui sarebbe interessante aprire due parentesi per far capire meglio la complessità dei problemi. La prima è che se voi leggete queste pagine emerge clamorosamente la presenza di un altro che Anna Arendt chiamava il pensatore per eccellenza, ancora più importante di Socrate. E questo pensatore per eccellenza è Martin Heidegger e allora qui capite tutti i problemi, perché qui si sta dicendo che Martin Heidegger ha la soluzione del nazismo e vi rendete conto del cortocircuito con questa battuta, perché il problema di Martin Heidegger è il nazismo, quindi cercare dietro la parola, tutta la riflessione è profondamente debietrice della riflessione di Martin Heidegger e in particolare è proprio Heidegger colui che più di tutto insiste sulla necessità, sul fatto che la filosofia non è conoscenza o dottrine o sistemi, ma è la capacità di pensare ed è questo che Anna Arendt continuerà a riconoscere come il debito principale di cui lei è debitrice nei confronti del suo maestro. Però vi rendete conto che a questo punto l'idea di tener insieme Socrate e Heidegger è un problema, sarebbe bello se ci fosse più tempo, ma vi consiglio di farlo a meno che probabilmente l'avete anche già letto, in questi stessi anni, mentre lei sta lavorando alla vita della mente, sta riflettendo su questi problemi del pensiero, la relazione tra pensare e male, il ruolo di Socrate, una figura intellettuale come Socrate opposto ai filosofi, in questi stessi anni lei scrive anche un testo piccolo e bellissimo per celebrare un altro anniversario, gli 80 anni di Martin Heidegger, che legge e appunto dove lei riflette su Martin Heidegger e dice una cosa interessantissima, cioè Martin Heidegger è il pensatore, è colui che ha insegnato a una generazione di filosofi cosa vuol dire pensare, non filosofia ma pensare, adesso penso che si capisca bene e poi ha fatto un errore, dice lei, è andato in politica, è stato una volta di entrare nella caverna che non capiva niente e ha combinato i disastri che ha combinato e invece doveva rimanere là, doveva rimanere là nel regno del pensiero, dove lui era il regno del monarca segreto di questo regno che nessuno vedeva ma che noi, gli studiosi, i giovani di quella generazione in cerca di qualcosa e noi eravamo veramente pronti a seguire, però vi rendete conto della contraddizione, spero di non andare troppo veloce, la contraddizione è che la colpa di Heidegger è quella di essere entrato nella caverna, di essere andato in politica, ma era esattamente il merito di Socrate, la necessità di unire pensieri e attività politica, quindi veramente qui c'è una serie di tensioni che, come dire, c'è un disegno che si spiega molto chiaramente e con grandissimi, con considerazioni di grandissimo interesse per convergere poi in un grumo di tensioni finali. Heidegger possiamo anche lasciarlo da parte, potremmo dire che quello è un problema personale di Anne Arendt che non è mai riuscito a fare veramente i conti con le verità del maestro e problemi, come dire, del maestro, però Socrate invece penso che rimanga un problema prima di tutto filosofico. Se ci fosse tempo, l'altra figura che sarebbe interessante considerare è che c'è un altro pensatore molto simile ad Anne Arendt che detestava Anne Arendt e che Anne Arendt detestava Leo Strauss, anche lui tedesco, allievo parzialmente di Martin Heidegger, costretto alla fuga in America, diventa professore importante, continua a lavorare sui greci come risposta al pensiero della modernità e anche lui arriva a riflettere sul fatto che la vera filosofia è questa ricerca senza conoscenza e quindi questa specie di vita contemplativa che gira a vuoto. Solo che Strauss, non so se lo conoscete, è un'altra figura molto interessante, su questo è molto chiaro perché Strauss torna esattamente al problema di partenza, sul fatto che è esattamente la conclusione a cui purtroppo, ma al volentieri, anche Arendt è costretto ad arrivare. Cioè sul fatto che, come all'inizio, c'è una separazione tra la vita attiva e la vita politica che non riescono a essere saldate, perché da un lato c'è la conoscenza, che però non ti dice più cosa è bene e cosa è male, e dall'altro c'è la vita attiva, la necessità di cercare di dare ordine al mondo in cui noi viviamo, che però non è più fondata sulla conoscenza, sulle conoscenze appunto della ricerca contemplativa. E quindi si arriva a questa tensione, cioè sostanzialmente Anna Arendt finisce nella tensione in questa opposizione da cui aveva cercato di scappare. Spero che questo si sia capito perché vedo che questa è la tesi principale, cioè sostanzialmente Anna Arendt finisce, torna da dove era partita, su questa tensione tra vita attiva e vita contemplativa, che è una tensione che, come dire, ritrovate pari pari in Aristotele, pari in Platone, pari pari in tutti i filosofi. Prima li ho presentati molto genericamente, ma la stessa tensione c'è anche in questi pensatori. E questo è quello che secondo me rende così interessante il pensiero di Anna Arendt. Ha, diciamo, discolpa di Anna Arendt, non c'è niente di essere accusata perché appunto il compito dei filosofi poi è di aiutarci a capire i problemi più che darci le risposte. E in questo senso penso che lei abbia aiutato veramente a capire una serie di questioni fondamentali. La cosa interessante è sostanzialmente che, e qui veramente uno rimpiange, si rammarica per il fatto che questa poveretta gli è sentito un infarto, a parte che poveretta, a prescindere, ma perché lei in qualche modo la terza parte dell'opera doveva rispondere esattamente a questo problema. Perché quando tu hai messo fuori gioco la conoscenza e hai messo fuori gioco il pensiero, lei dice c'è un'altra possibilità che dovremmo prendere in considerazione, è un'altra cosa che i filosofi non hanno mai considerato, l'importanza del giudizio, cioè la capacità come dire di unire il pensare e il giudicare, come capacità in qualche modo a un certo momento mentre il pensiero continua a rimanere in una dimensione astratta, generale, perché cosa è la giustizia, forse questo è giusto, a un certo punto come dire nella vita concreta dovresti essere capace di trovare una convergenza tra le questioni generali, che sono quelle di cui si occupa la filosofia o il pensiero, e i giudizi particolari, perché lì magari potremmo finalmente trovare una soluzione ad Eichmann. Ma purtroppo questa terza parte non è mai stata scritta, abbiamo solo degli appunti che ci permettono di comprendere che effettivamente lei aveva delle questioni molto interessanti, delle osservazioni molto interessanti da sviluppare. Quello che lei può dire, però questo sarà il tema di un'altra conversazione, adesso mi voglio fermare con un'ultima brevissima osservazione, cioè quindi quello che lei può dire, l'unica cosa che può dire è che non ha risolto il problema, perché probabilmente il problema non è risolvibile, questo in qualche modo sono le contraddizioni della dimensione della condizione umana, però in qualche modo lei potrebbe anche dire che una piccola soluzione l'ha suggerita, perché il pensiero non risolverà i nostri problemi, cioè non è in grado di prendere, di esercitare quel ruolo che ipoteticamente doveva essere svolto dall'attività contemplativa dei filosofi che conoscono il bene. Questo no, però dice lei in una frase bellissima che conclude proprio questa sezione, la manifestazione del vento del pensiero non è la conoscenza, è l'attitudine, questo ormai penso che sia chiaro, poi questa invece c'è la parte problematica è l'attitudine a discernere il bene dal male, il bello dal brutto, questo invece non è per niente chiaro come in questo possa avvenire, il che, però questo è interessante, forse nei rari momenti in cui ogni posto è in gioco, cioè non oggi, ma nel 38, quando sta per scoppiare la guerra, o il 33, insomma in quei momenti lì, è realmente in grado di impodire le catastrofi, almeno per il proprio sezione, cioè comunque questa capacità di pensare, probabilmente non ci dà le risposte di cui noi siamo in cerca, perché non può risolvere i problemi della vita politica, però almeno nei momenti delle catastrofi, almeno in quei momenti, comunque può fare, perché se Eichmann avesse pensato, si fosse fermato e per una volta avesse pensato, e non Eichmann, ma tutti quelli che con Eichmann hanno appoggiato quella ideologia fanaticante, forse qualcosa sarebbe potuto succedere, quindi almeno in questo senso negativo, comunque a Narend una risposta riesce a proporla, come dire il pensiero ti ferma, ti blocca, questo non è una soluzione per i problemi della vita politica, ma almeno quando tutta la posta è in gioco, lei ha questa immagine come di quelli, penso al poker che mettono tutto lì, in quel momento lì, in quel momento lì ti fermi e ti pensi e forse qualcosa sarebbe potuto succedere, almeno dentro di te, non cambierai la società, ma almeno qualcosa tu avresti potuto fare, e questo mi sembra, diciamo, nei giorni in cui vediamo le foto dei bambini che muoiono in mare, uno potrebbe dire, forse fermarsi a pensare ogni tanto sarebbe utile, e mi fermo qua. Grazie per l'attenzione. Grazie Mauro, per questa bellissima lezione, seminario, conversazione, ha toccato vari punti, non voglio rubare molto tempo perché spero ci siano delle domande anche da parte dei nostri studenti, dottorandi, che numerosi sono qui oggi, volevo proprio anche a beneficio dei miei studenti, delle mie studentesse, così sottolineare alcune questioni di metodo che secondo me sono fondamentali anche per loro, magari sono delle questioni banali, però insomma mi premeva così metterle in evidenza per chi sta studiando adesso filosofia. Secondo me abbiamo avuto un po' una dimostrazione di come storia della filosofia e filosofia possano dialogare, perché questo è un grande tema che uno studente di un corso di laurea in filosofia si trova sempre ad affrontare, e spesso si risolve in una dicotomia in cui un aspetto esclude l'altro, chi fa storia della filosofia non è considerato un filosofo, che un filosofo è considerato normalmente un cane per quanto riguarda l'attenzione ai dettagli, al contesto storico, invece oggi secondo me abbiamo avuto la dimostrazione che si può avere un'attenzione all'evento storico, ai testi, agli autori, in questo caso l'autrice, ma combinandola anche con una riflessione filosofica, cioè da cui emergono poi delle chiave di lettura che possono essere utili a ripensare i famosi grandi temi. La seconda cosa che ho trovato molto interessante, naturalmente in questo caso seguendo il sentiero tracciato da Anna Arendt, è questa differenza tra pensiero e filosofia, perché anche questo ritorna spesso negli studi che facciamo all'interno di un corso di filosofia, soprattutto un corso di filosofia come il nostro, che è profondamente storico-filosofico, è interessante vedere che non sempre la filosofia coincide con il pensare, cioè non sempre pensare significa fare filosofia e viceversa fare filosofia non sempre significa pensare. e la terza cosa, però in questo caso parlo prodomomea, questo tuo, anche se è un escursus, però hai attraversato i sentieri medievali e mi ha colpito particolarmente perché proprio oggi ne discutavamo a lezione, perché una delle cose che lascia sempre perplessi, soprattutto gli studenti che si approcciano per la prima volta al Medioevo, è questa presenza molto ingombrante di Dio, no? E con la tentazione, devo dire la verità, anche aiutata da molti manuali, che medievali non facessero altro che parlare di Dio tutto il giorno. Non so se avete notato una delle cose che è emersa durante il seminario, il parlare di Dio era semplicemente dire, cioè non semplicemente dire, però c'è uno, se l'uomo è un uomo perché conosce, è tanto più uomo quanto più conosce l'oggetto elevato della conoscenza, il più elevato possibile. Nel Medioevo l'oggetto di conoscenza più elevato possibile, quindi più degno di essere conosciuto era Dio, quindi un uomo se voleva essere uomo non poteva sottrarsi a questa responsabilità, a questo compito. Quindi è molto lontano da certa lettura fideistica, no? Che spesso si attribuisce al Medioevo, quindi erano le prime tre osservazioni che volevo fare anche a beneficio dei nostri studenti e delle nostre studentesse. Per rompere il ghiaccio però ti voglio fare una domanda. Hai citato come autori e autrici di riferimento, autori soprattutto, di riferimento di Ann Arendt Socrate, che era l'interlocutore principale della filosofa tedesca, Jaspers, Leo Strauss, Heidegger e Agostino a cui Ann Arendt dedica per esempio la sua tesi di laurea? Perché a un certo punto avevo l'impressione che Socrate non andava bene, Heidegger non andava bene, il terzo libro poteva prendere in considerazione non il pensiero, non la conoscenza, l'amore, che è il tema da cui lei è partita. No, è un'idea interessante perché appunto la tesi di dottorato di Ann Arendt e su Agostino sul problema dell'amore che effettivamente è un tema fondamentale. Diciamo che Agostino tornerà a giocare un ruolo fondamentale però per un'altra questione che esula da questi problemi perché lei appunto la seconda parte di questa opera incompleta che è La vita della mente è dedicata al tema del volere, della volontà che pure è parte della nostra attività intellettuale, cioè parte della nostra attività di pensiero mentale, il tema del volere. Lei dice che appunto questo è un tema che gli antichi non hanno saputo adeguatamente sviluppare mentre è un tema che da Agostino in poi diventerà fondamentale nel pensiero medievale. Quindi tutta la seconda parte sul tema della volontà è tutta dedicata a una lettura molto approfondita di Agostino, Duns, Scott eccetera. Quindi su quella roba lì sì, però non sul problema, cioè come dire lei non sembra particolarmente interessata al pensiero di Agostino in termini sul problema del pensiero, cioè alle riflessioni di Agostino sul tema del pensiero. Il tema dell'amore è un tema che invece sta sullo sfondo perché come dice lei poi la questione è imparare ad amare questo mondo in cui noi viviamo. Però appunto secondo me è un tema molto interessante che dovrei approfondire, perché appunto ho studiato il problema di Agostino nella volontà, che è appunto quello del contributo fondamentale della filosofia diciamo cristiana medievale, ma non tanto su questo perché secondo me lei vede in Agostino comunque un altro rappresentante ed eminente, penso che lo veda anche giustamente, di quel modello di vita contemplativa che si è dimostrato fallimentare o comunque totalmente inutile nell'epoca moderna. Quindi di nuovo lei non, come dire, su questi problemi Agostino non fa parte, è un filosofo da un certo punto di vista, non so se ha risposto. Sì, sì, assolutamente. Chiarissimo. Allora, c'è una collega, Nadia Brahi, che insegna metafisica antica e medievale, ti vuole fare una domanda. Salve. Ciao Nadia. Buongiorno, buongiorno. È stato un grande piacere per me conoscerla, anche se in questa modalità, perché insomma la fama delle sue riflessioni l'ha sicuramente preceduta e dei sei libri. Anche questa lezione, mi permetto di esprimermi, insomma, ha confermato queste grandi visioni che riesce a avere, come diceva la collega Beccarisi, unendo le competenze dello storico della filosofia antica, della storia della filosofia a problemi che ci toccano da vicino. Io, sì, insegno storia della metafisica antica e medievale e sono ricercatrice in storia della filosofia medievale, quindi tratto i temi della filosofia antica con i miei studenti, anche se in modo indebito, da non specialista. Sulla filosofia socratica ho speso i miei corsi, naturalmente quella veicolata dalle opere di Platone, presentata un po' attraverso le altre testimonianze. In particolare, a volte, abbiamo considerato la lettura del simposio, insieme a quella del Menone e del Protagora. Gli spunti della sua relazione sono stati tantissimi, quindi adesso per parlare un po' con lei scelgo quello che mi viene più spontaneo, ma davvero sarebbe bello stare tutto il giorno insieme a parlare. Ecco, mi ha colpito questa lettura della Socrate di Arendt, che per un verso e per un certo periodo è il filosofo che quasi offre la cura, il rimedio, perché insegna a pensare, e quel modo di pensare può essere un contributo alla politica. peraltro, e successivamente, il suo Socrate è un Socrate che invece questo rimedio non lo offre più, e che in qualche modo mostra la natura pericolosa dell'esercizio del pensiero. Ora, se ho capito bene, lei vede in questo passaggio quasi una Arendt che perde quasi il punto di riferimento per un problema che aveva, e questo mi sembra obiettivo dall'analisi che lei ha esposto. Mentre però ascoltavo, mi sono venute in mente due cose. Intanto, la natura pericolosa del pensiero. Forse potremmo fermarci e chiederci se questa idea di pericolo associata al pensiero vada descritta nei termini negativi oppure in termini positivi. Quindi, perché di un pensiero pericoloso, mi sembra che Socrate si sia fatto latore, sostenitore, e che il pensiero sia pericoloso, mi sembra, non tanto nelle opere di Platone, ma quanto nelle vicende anche che accompagnano la vita di Socrate, anche il confronto che si fa tra la filosofia di Socrate e il pensiero dei sofisti, e così è qualcosa che contraddistingue veramente l'intenzione stessa di Socrate, che appare buono, appare bello, nel simposio appare bello, invita i belli a parlare, ma in fin dei conti, dopo che si scardinano le certezze di un pensiero che sembrava pericoloso all'inizio, perché era un pensiero relativista, era un pensiero che indottrinava, che comunque porta alla luce le verità nascoste nell'uomo, e quelle sono ancora più pericolose di quelle false credenze dei quali gli interlocutori di Socrate erano portatori, e questo sulla pericolosità. Dall'altra parte, mi è venuto in mente questo, questo profilo di Socrate che da un lato è così contribuisce, e dall'altro invece si fa in qualche modo portatore di un pensiero distruttivo. Se uno prende le opere di Platone, faccio un riferimento a quelle poche che conosco più da vicino, pensiamo alla trilogia Menone, Gorgia, Protagora, e alla questione se la virtù sia insegnabile oppure no, beh, questo è veramente il Socrate che emerge quando leggiamo i tre, la trilogia che sto facendo riferimento, perché alla questione che ho nominato, se la virtù sia insegnabile, che poi significa se appunto possiamo promuovere dei valori all'interno della democrazia, attraverso i maestri, nel Menone si dà una risposta, la virtù non è scienza, e al popere se ne dà un'altra. Quindi un po' questo esercizio del ragionamento che non conclude e non deve concludere, perché è un invito che tiene dentro tutto il rischio per l'interlocutore di attivare un pensiero autonomo. Allora queste le mie riflessioni su questo interesse. Da questo punto di vista mi chiedo, non da detta ai lavori per quanto riguarda la filosofia di Anna Arendt, la conosco perché mi piace, ma non l'ho mai studiata in prima persona, se in questa idea di, lei ha detto pensare, volere e giudicare, è questa parte incompiuta, se non si possa sospettare che la soluzione, tra virgolette, rispetto al problema della banalità del male, non sia stata intravista nei termini della attivazione, mi esprimo in modo un po' improprio però, dell'attivazione, che è il merito dell'esercizio di una cultura umanistica e socratica, dell'esercizio critico della ragione. In altri termini, che cosa avremmo? Una politica che fa il suo lavoro, con i politici che fanno il loro lavoro, e che a volte sono illuminati, a volte no, ma dall'altra parte, distaccata dalla competenza del politico, è la competenza dell'intellettuale, che come esercizio del pensiero, come missione, intende quella di condurre gli interlocutori a giudicare, cioè a stare nella situazione, perché non si può fare a meno, ma a essere sempre pronti di giudicare, e come non sempre giungendo alla condivisione di un valore, ma dall'ora proprio distruggendolo. E in questo modo la riproposta di un esercizio pericoloso del pensiero sarebbe in realtà una sfida culturale degna di essere accolta e forse ha proprio nel nome di quel Socrate che l'Arend ha tanto amato. Vorrei sapere di queste riflessioni. Sono tutte domande molto interessanti. Il problema, parto dall'ultima che si ricollega alla prima, il problema del giudicare, allora giudicare è fondamentale, lei ha l'intuizione che giudicare sia fondamentale nella misura in cui permette di unire l'universale e il particolare, perché è in quel momento del giudizio che in qualche modo si trasferisce, si fa diventare concreta una riflessione di carattere generale, per cui il bene è questo e quest'altro, la giustizia è questo e quest'altro, e adesso si tratta di fare questa cosa qui perché è giusta, quindi è quello che è in Aristotele il sillogismo pratico. Quindi questa è l'intuizione. Il problema è che però, in principio è tutto molto facile, il problema è che siccome non abbiamo punti di riferimento di partenza, non si capisce bene quali siano i concetti generali che uno applica nel particolare, ed è questo il problema su cui lei lavora, perché se no è esattamente il modello platonico, diciamo stereotipato, no, io vedo il bene e ti dico cosa devi fare, perché so che cos'è il bene, so che cos'è la giustizia, tu dici che questa cosa è giusta, questa cosa è sbagliata. Quindi a quel punto nel sillogismo pratico, il giudizio è veramente una cosa secondaria, perché se io, come dire, il modello è sempre il modello paternalista in questa idea, cioè se io sono il padre e so che cos'è giusto, tu non devi fare questo, il bambino, e dico tu adesso non devi mettere le mani su, non so, non devi rispondere male perché non è giusto, punto, non è che ci sia discussione, quindi il giudizio, l'applicazione pratica dell'idea universale, non è un problema, è una questione totalmente secondaria, diventa fondamentale in Anna Arendt, perché appunto siccome non abbiamo più il concetto universale, allora magari la soluzione la troviamo nel giudicare, il problema è come tenerle due cose insieme, che è un problema a questo punto molto complicato per Anna Arendt, e questo, quindi spero di aver fatto capire qual è il problema, che poi addirittura lei ha due teorie del giudizio, perché poi il giudico vuol dire anche dare, prendere posizione sul senso dell'esistenza, che è un altro problema ancora. Comunque, quindi è proprio un peccato che lei non abbia potuto completare, anche se abbiamo delle lezioni, che l'idea è quella di, lei a quel punto diciamo, il riferimento a questo punto diventa la critica del giudizio di Kant, solo che non è più il giudizio estetico, ma deve essere un giudizio politico, però come dire, è lì che ci potrebbe essere la soluzione, in quel tipo di riflessione, che però è una cosa che esula completamente dalla discussione OTM. Invece questa cosa qui mi riporta alla prima domanda che è stata fatta, che è molto interessante, perché effettivamente il pensiero è pericoloso, ma sono veramente grato per il commento, è necessario, è fondamentale, cioè qui di Socrate esercita una funzione fondamentale, e il pensiero è decisivo in una vita politica della città, perché l'alternativa è Eichmann, cioè l'alternativa è questo modello, se volete un po', non è Eichmann, è anche Eichmann, è come dire, l'applicazione di un modello tecnico, in cui qualcuno ti dice quello che devi fare, questo qualcuno può essere il filosofo, il profeta, l'algoritmo, l'economista, tutto, cioè come dire, c'è l'idea, perché appunto io, faccio anche un commento, perché prima non ho parlato, non ho commentato alle osservazioni di Alessandra, che sono molto pertinenti, Dio, quando si parla di Dio, si parla, come direi, di quello che dice Alessandra, di un punto di riferimento, adesso che non c'è più Dio, cosa fanno gli esseri, se uno guarda l'idea, il problema di Hannah Arendt, e di molti altri filosofi, diciamo, posta i degeriani, il problema è, è morto Dio, e cosa stanno facendo gli esseri umani? Stanno cercando disperatamente un altro, che sia l'economia, che sia la tecnologia, che sia l'algoritmo, che ti dice cose bene e cose male, e non hanno capito che nessuno te lo dirà mai, no? quest'idea che c'è sempre qualche criterio oggettivo, non c'è, e quindi il pensiero ha questa funzione fondamentale, perché nel momento in cui inizia a sperare che ci sia un criterio oggettivo, per cui tu non devi più prenderti responsabilità, e non devi più pensare, a questo punto iniziano i problemi, che siano Amazon, che ti manda 5 mila volte al giorno la proposta, oppure Eichmann, adesso non vorrei sembrare apocalittico, però lo schema è quello lì, secondo Hannah Arendt o Martin Adie, quindi il pensiero è necessario, però il pensiero, quello che Hannah Arendt vuole sottolineare, che è molto interessante secondo me, è che il pensiero non salva, cioè non è che ti dà la risposta, ti impedisce in certi contesti di fare degli errori, perché ti blocca, cioè paradossalmente quello che lei dice, è che il pensiero non ti fa andare avanti, il pensiero ti frena, cioè tu stai facendo come dire, lei dice, un'idea molto interessante, che porta sui problemi dell'identità personale, che è un'altra questione molto controversa in Hannah Arendt, l'idea è, quando tu sei con gli altri sei uno, perché in qualche modo sei quello, che in qualche modo gli altri vedono, quando sei da solo diventi due, perché inizi a pensare, e quindi inizi a mettere in discussione le tue credenze, il pensiero deve fare quello, cioè Eichmann è perfettamente integrato nella sua società, e fa esattamente quello che deve fare, lo fa perché non pensa, se si fosse fermato, avesse pensato, ma è giusto quello che sto facendo, magari avrebbe fatto diversamente, il compito del filosofo, del pensatore, non del filosofo, è esattamente quello di esercitare questa funzione, che è pericolosa, perché? Perché non ti dà la risposta, ti impedisce in certi momenti di fare l'errore, quindi è necessario, però è necessario perché è distruttivo, ma non c'è la parte costruttiva, che era quella invece del saggio del 54, che però è un'idea di società un po' troppo semplice, secondo me, quello è il punto, per cui lei si rende conto che la vera funzione dell'intellettuale non è quella dell'intellettuale che promuove l'accordo, ma è quella negativa dell'intellettuale che rompe l'accordo, che mette in discussione, che esercita appunto, come si diceva, la funzione critica, come unica attività possibile, per cui è una concezione diciamo più pessimista della società umana, mano a mano che procede negli anni, cioè mentre all'inizio ancora si può sperare di costruire una democrazia contivisa, alla fine l'idea è comunque la società tende ad organizzarsi secondo questi modelli, diciamo, cerca sempre del suo dio, e l'intellettuale è quello che cerca, come dire, di punzecchiare, a rischio di morire, a rischio di pagarne pesantemente le conseguenze, che rischia di rompere questo equilibrio. L'unico che aveva capito tutto, e così rispondo velocemente anche a una terza domanda, l'unico che aveva capito tutto era Platone, il quale Platone si è reso conto che, come dire, la vita umana, la vita sociale, la vita politica, non può funzionare su basi solo razionali, esattamente l'errore che stanno facendo Socrate e Annare, pensare di problema si risolve a livello razionale, cioè uno, se si dovesse parlare di argomentazioni nazionali, dovrebbero governare i filosofi, siccome la città funziona in un altro modo, perché, come dire, nel mondo degli uomini, le passioni giocano un ruolo altrettanto fondamentale, e allora, se uno vuole fare politica, deve iniziare a pensare alla menzogna, a come si raccontano i miti alle masse, tutte cose che Socrate e Annare non volevano fare, ed è la parte, come dire, è la parte che è esecrata e criticata negli anni 50, 60 e 70 di Platone, Platone che dice che bisogna mentire, Platone che dice che ci sono i miti, che fa le razze, ma è esattamente la parte che serve in politica, cioè se tu non sei capace di raccontare una storia e pretendi che, basta vedere come funzionano i dibattiti politici, uno magari ha ragione, ma se non è capace di colpirti, di colpirti, allora è meglio che vada a fare il filosofo. Diciamo, Annarendt capisce perfettamente questo problema, nel senso che appunto ritaglia una posizione marginale al filosofo, all'intellettuale, che non deve più guidare nessuno, perché non può, però può cercare, come dire, di impedire, e poi la frase che citavo è molto bella, almeno dentro di te, cioè comunque magari non salvi gli altri, ma almeno tu ti puoi salvare, se pensi, in certi momenti, perché magari tu dirai, io quella cosa non la faccio, spero di aver risposto a tutte le domande, che erano molto ricche. Grazie. Grazie, grazie, questa è una bellissima risposta, tra l'altro adesso do la parola a Giulio Navarra, e Mauro, Mauro ci sei? Sì. Tra l'altro Giulio è un nostro dottorando, che lavora sulla filosofia araba, in particolare sulla tradizione araba di Alessandro D'Afrodisia, dico questo perché un ambito in cui in realtà quel Platone ha avuto successo, quindi il Platone che racconta miti, che si governa tramite parabole, che per convincere la massa bisogna anche saper raccontare, non soltanto convincere, è proprio il mondo arabo, che ha veramente messo a frutto l'insegnamento politico, della figura di Platone. Prego Giulio. Sì, grazie, grazie Alessandra, e grazie mille professore per la presentazione, ha dato molti spunti di riflessione. In realtà, in parte avevo questa domanda da porle, ma in parte ha già risposto mettendo in gioco la figura di Platone, però io gliela formulo come l'avevo pensata, dietro questa tensione tra vita contemplativa e vita attiva, io ho intravisto, gliela formulo come domanda, si può intravedere quella stessa tensione, quella stessa polarità, doppia polarità che c'è tra il desiderio della razionalità, vi giungerà una certezza, una verità, e dall'altro il desiderio, cioè la consapevolezza che questa razionalità in realtà può essere veramente lesiva, perché io ho pensato, è una riflessione che faccio anche alla luce della dialettica dell'illuminismo, per esempio, di Horkheimer, Adorni, tutta la tradizione della scuola di Francoforte, che la Shoah è paradossalmente la realizzazione di una razionalità estrema da parte del popolo che era ritenuto all'epoca il più civilizzato di Europa, e tant'è che anche la propaganda stessa di Goebbels univa la perfezione tedesca, la perfezione celtica, al pensiero greco. Lo stesso Martin Heidegger sosteneva che Grecia e Germania fossero le uniche due vere patrie della filosofia e del pensiero. Si può intravedere in controluce tra questa dialettica, che poi è la dialettica che accompagna ancora, è molto attuale, accompagna il nostro pensiero, anche la dialettica tra desiderio e paura della razionalità? Grazie. Sì, sì, è un'altra domanda molto importante. Tra l'altro vedo nei partecipanti alcune vecchie frequentazioni milanesi, addirittura anche uno studente di Utrecht, che mi fa piacere perché proprio in questi giorni stiamo parlando di temi affini qua in un corso che sto tenendo. Sì, perché uno potrebbe dire, diciamo, il problema è dove mettere Anna Arendt in questo quadro, perché penso che abbia una posizione più sfumata, però uno potrebbe dire appunto il problema della modernità è il problema della ragione, dei limiti della ragione, che tra parentesi non è che nel Medioevo si discutesse di altro, ma comunque nella modernità il problema è quello lì, cioè il problema è quello della ragione, di quello che la ragione può e non può, perché c'è una tradizione progressista che celebra la ragione come la soluzione di tutti i mali e quindi l'uscita dell'oscurità, l'illuminismo. E c'è una tradizione invece, soprattutto in Germania, che invece contesterà questo racconto della modernità come l'uscita dall'oscurità, facendo vedere che invece la ragione può produrre dei mostri, è la dialettica dell'illuminismo di Horkheimer Adorno, è la stessa tesi di Martin Heidegger, cioè effettivamente c'è una riflessione su questo tema della ragione come tema fondante del problema della modernità. La cosa interessante appunto è che questa riflessione non è una riflessione astratta, è una riflessione che poi si ricollega, soprattutto in questi pensatori, al problema della grecità, perché se vuoi riflettere sulla ragione devi riflettere su Logos e quindi devi riflettere sui Greci, sulla filosofia greca e sulla grecità. Quindi effettivamente tutto si tiene. E c'è una parte di questa tradizione che nasce con Nietzsche, che trova poi sviluppi variegati, Martin Heidegger e la scuola di Francoforte, che in qualche modo rinnega tutta la tradizione e dunque anche la filosofia greca. C'è un'altra parte che invece cerca di difendere questa tradizione, perché ad esempio c'è la Husserl, fa esattamente lo non si posta. Cioè il problema è che, come dire, è una connozione sbagliata di razionalità che noi stiamo usando, perdendo di riferimento all'originale greco, che invece aveva una concezione della ragione che ci permetterebbe di affrontare i nostri problemi, pure Habermas più avanti. Quindi è un concetto, è proprio quello, sull'idea di una specificità greca. Cioè l'idea è che i Greci non sono un riferimento erudito, i Greci sono coloro che hanno posto il problema del Logos. Quindi se vuoi parlare di questa roba devi parlare dei Greci, o dell'illuminismo, ma il problema vero sono i Greci per i filosofi, non tanto l'illuminismo. Infatti è anche la dialettica dell'illuminismo, tutta quella parte iniziale, assolutamente incomprensibile, però in cui si parla di Odisseo. Anna Arendt dove si trova? Secondo me si trova in una posizione intermedia, perché secondo me lei, nella misura critica la tradizione filosofica, però appunto cerca di difendere in qualche modo uno spazio per il pensiero, cerca di staccare il problema della conoscenza, che è il problema filosofico per eccellenza, è il problema del pensare, che è un problema che deve riguardare invece tutti, perché tutti devono pensare, mentre invece il desiderio di conoscenza, che caratterizza la vita filosofica, quella è di pochi, degli scienziati, dei filosofi, di chi vuole... ma come dire, quello fa niente, quindi secondo me lei, cioè esiterai a definirla, appunto a collocarla a pieno titolo in questa corrente antirazionalista, che invece domina, però pur essendo consapevole che di quei problemi bisogna prenderli, bisogna tenere in considerazione. Poi un piccolo commento velocissimo a questo riferimento arabo, cioè Strauss, tanto per complicare il quadro, esattamente con lui che ha capito tutto, cioè lui ha questa idea che se vuoi capire Platone, devi leggere gli arabi e gli ebrei, cioè Maimonide, Al-Farabi, soprattutto Al-Farabi, perché questi qui vivevano in un mondo in cui dei filosofi non ne fregava niente a nessuno, mentre i poveri cristiani, i latini, ogni volta che parlavano qualcuno li scomunicava, e quindi, come dire, quelli dovevano parlare attenti, non dire niente, perché ogni volta avevano dei problemi, perché appunto tutto quello che facevano interferiva in modo molto visibile nella vita, diciamo, teologico, religioso, intellettuale della società in cui vivevano, questi stavano nell'angolino, avevano una libertà totale e hanno pensato esattamente le cose giuste, cioè il fatto che la vita contemplativa e la vita attiva sono completamente separate, e quindi se tu ti occupi di vita contemplativa, dovrai essere pronto a fare quello che dice Annare, a mettere tutto in discussione, quindi a pensare a un mondo senza Dio e senza più valore, che politicamente è una tesi insostenibile, provare sia il fatto che in America ancora devi dire che sei credente, se no non puoi candidarti all'elezione, e quindi quando vai in politica devi adottare altri criteri per tenere buona, diciamo, la politica, il mondo della politica è un mondo di passione, quindi il valore della moderazione, cioè, come dire, non puoi dire Dio non esiste, devi dire, no, Dio esiste, ci dice che bisogna essere buoni, rispettarsi gli uni con gli altri, ma filosoficamente tu lo sai che queste cose non stanno in piedi, quindi diciamo, ed è l'idea che lui ricava appunto dal farabile, quindi mi sembra un tema molto interessante anche di nuovo, perché sembrano problemi astrusi, ma poi in realtà quando uno, diciamo, per ricollegarmi all'ultima cosa che diceva Alessandra, questa distinzione comica, perché ormai non ci sono più altri aggettivi tra storia e filosofia, cioè, tra storia e filosofia e filosofia, cioè, il problema di uno storico della filosofia, per fare un po' di autocritiche, che ogni tanto studiamo magari delle cose un po' troppo specialistiche che non sono magari decisive, però se uno fa storia e filosofia bene, sostanzialmente, fa vedere la continuità dei problemi, cioè questo è l'obiettivo, far vedere che i problemi sono sempre quelli poi, sono sempre pochi e sono sempre quelli, la giustizia, il bene, l'amore, il senso dell'esistenza, la relazione, la conoscenza, e si tratta di far vedere questo e la continuità, la discontinuità nella continuità, perché, come dire, il problema della conoscenza del logos, c'è in Grecia e c'è nel Medioevo, il contesto è diverso e questo significa, ad esempio, che il problema della fede diventa un problema fondamentale nel Medioevo per chi riflette sulla relazione tra ragione e fede, mentre nell'antichità il problema quasi non c'è, ma non è che siano due cose diverse e poi diventerà il problema della crisi della ragione nella modernità, quindi far vedere la continuità e la discontinuità e a quel punto uno si rende conto che sostanzialmente, diciamo, se uno inizia a capire veramente questi grandi pensatori ci si rende anche conto che forse invece di perdere tempo per dire qualcosa di intelligente, noi basta cercare di capire cosa hanno detto loro che mi sembra molto più interessante quando uno vuole stare in compagnia di Platone quando lo capisce è più divertente che dire adesso vi dico io qualcosa per risolvere i problemi. Quindi, ecco, mi fermo. Grazie. Grazie, perché è anche una lezione di umiltà. Diciamo, lo storico della filosofia dovrebbe avere almeno l'umiltà di capire che un'idea per quanto geniale è stata già detta da qualcun altro. Sì, l'umiltà è anche quello che vorrei dire è che secondo me è più divertente fare strada della filosofia, cioè stare in compagnia di persone intelligenti secondo me non è male e tendenzialmente quando uno è più intelligente cioè Platone è più intelligente di me per cui capire Platone mi sembra più divertente che cercare di risolvere i miei problemi e questo che è quello spieghi tante cose. Allora, abbiamo tempo per un'ultima domanda do subito la parola ad Alessandro Barbieri prego che è un nostro tra l'altro uno studente del nostro corso buongiorno ringrazio il professore per il seminario e per l'opportunità di porgli queste domande io faccio una domanda che in realtà è un consiglio che chiedo al professore abbiamo visto come Anna Arendt ci lasci oltre al problema del rapporto tra la vita contemplativa e la vita attiva anche una vita contemplativa e una vita attiva che singolarmente sono problematiche quella contemplativa perché non riesce più a proporre nuove idee di bene che siano indiscutibili e quindi una direttiva all'azione quella attiva perché senza la direttiva del pensiero prende come abbiamo visto derive molto pericolose ora se noi volessimo prendere in eredità il problema aperto da dalla Arendt secondo lei a quali correnti filosofiche successive dovremmo guardare a quali autori a me viene in mente per esempio Badiou però non so il problema è che diciamo come dicevamo prima la questione di capire il problema è un grande pensatore un grande filosofo è uno che ti fa capire il problema ti fa vedere il problema dove tu vedi certezze per te va tutto bene invece poi rifletti ti rendi conto che non va proprio niente bene perché c'è un problema gigantesco dietro le tue certezze poi a questo punto come affrontare il problema a questo punto diventa più una scelta un'inclinazione perché uno può seguire diversi orientamenti perché appunto già adesso nella domanda precedente avevamo abbozzato diverse linee di ricerca che ci sono adesso come c'erano nel passato per cui c'è quella che in qualche modo prova a percorrere un percorso che è al di là diciamo della ragione del Lobos la linea antirazionalista irrazionalista che domina soprattutto nella prima parte del Novecento oppure di un ripensamento critico della filosofia che invece mi sembra essere questa parte finale di Anna Arendt e appunto poi la scuola di Francoforte nelle parti dopo non sono un grande esperto però Habermas appunto il valore del dialogo del confronto piuttosto che semplicemente la messa a nudo dei meccanismi della società tardocapitalista che è invece l'obiettivo dei primi francofortesi quindi ci sono tante possibilità personalmente sì sì o anche Badiou insomma queste cioè secondo me appunto quello che magari poi se ne parlerà anche domani secondo me più che cercare di sposare una scuola per cui dire facciamo secondo me è interessante cercare di capire cosa sta succedendo quindi cercare di capire le varie opzioni e cercare di chiarirle questo sarebbe un compito utile per chi la fa per chi si occupa di filosofia cioè cercare di capire quali sono in qualche modo le grandi risposte che sono offerte al problema poi dopo ognuno simpatizzerà con quella che gli sembra più pertinente però prima di seguire solo quella secondo me conviene fare esattamente questo quindi sì andrei avanti ancora un po' a cercare tanto non ci ascolta nessuno per cui possiamo fare quel che vogliamo siamo come al farabino spero di aver risposto sì sì la ringrazio professore va bene grazie grazie Alessandro grazie a tutti i partecipanti e alle partecipanti a chi ha fatto le domande tutte molto interessanti al professore Bonazzi sia il seminario sia le risposte devo dire alle nostre domande ai nostri quesiti si è collegata la nostra coordinatrice ha sentito la parola Nietzsche e quindi come al solito nell'azione io sono sempre stata collegata ho tolto il video però si è collegata col video e no Maria Cristina Fornari è un'esperta nicciana l'ultima volta è stata chiamata in causa evocata adesso sta girando questa leggenda che quando si evoca Nietzsche io appaio leggenda accademica Cristina vuoi fare un intervento prima di salutarci? no grazie ho detto con grande piacere tutto quello che è stato detto stamattina grazie benissimo allora come ricordava il professore noi abbiamo la fortuna di avere un secondo appuntamento domani con con Mauro Bonazzi nell'ambito del laboratorio scienze e divulgazione come anticipavo nell'introduzione in questo caso il suo intervento sarà proprio sulla sua esperienza comunicatore una bruttissima parola però di storico della filosofia che attraverso le pagine dei giornali in particolare lo ricordo sono la lettura e sette ma devo dire anche con molti dei suoi libri che è pubblicato per il mulino e le naudi devo dire che la chiarezza di quei testi sono quasi paragonabili alla capacità comunicativa sulla carta stampata in ogni caso domani ci parlerà della sua esperienza di storico della filosofia che scrive per un pubblico di non universitari né di professori né di colleghi né di studenti che si che lavorano e studiano gli autori o le tematiche legate alla storia della filosofia cioè domani forse avremo la possibilità di conoscere la tua esperienza non come filosofo ma come pensatore un po' per riprendere diciamo questa temo di non essere l'uno e l'altro però si parleremo temo di non essere l'uno e l'altro però parliamo più di questo aspetto più pubblico sì perfetto e niente quindi do appuntamento a tutti voi per domani alle ore 16 il link si può trovare su tutti i canali social di cui ormai abbiamo la completa gestione da un po' di tempo perché non se ne può fare a meno ringrazio ancora Mauro per questa bella opportunità e ci vediamo domani alle 16 grazie a tutti grazie arrivederci grazie per l'attenzione piacere e grazie per le domande tutte molto belle arrivederci ciao 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 come si ciao come si ciao 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 ciao